Il territorio di Borgo Vallitaro è un territorio ricco di natura incontaminata. Infatti quest'anno si svolgerà il 30 giugno la seconda edizione della Mangialunga borgotarese, nata appunto lo scorso anno che ha visto una grossa partecipazione sia di borgotaresi che anche di persone che venivano da lontano. La Mangialunga è una camminata non competitiva e non gastronomica che si svolge all'interno della bellissima foresta di Faggi del Monte Molinatico, ha una lunghezza di 7 chilometri e ha una difficoltà medio-bassa alla quale possono partecipare tutti, bambini, famiglie, escursionisti. La particolarità di questa camminata è che ha delle tappe nel corso delle quali si potranno gustare i piatti tipici della tradizione gastronomica delle nostre valli. Parliamo della nostra torta d'erbe, della nostra chisola nostrana con la pancetta, della frittata con i funghi prugnoli, della polenta col sugo di funghi porcini, della salsiccia cotta sulla braccia e delle frittelle di castagne fatte appunto con la farina di castagne che sono state molto apprezzate lo scorso anno. È una camminata che permette di passare una bellissima giornata in mezzo alla natura e appunto mangiando cose particolari e molto buone alla quale sono invitati tutti. Il nostro consiglio è quello di venire attrezzati perché comunque il Monte Molinatico ha un'altezza di 900 metri circa e quindi sono consigliati sia scarpe da trekking che un eventuale QA per probabili temporali che non possiamo prevedere ma speriamo di no. La maggior lunga si terrà appunto il 30 di giugno, il ritrovo sarà allo sciallè del Monte Molinatico a Basilica a Borgotaro, la partenza è prevista per le ore 11. Tutti siete invitati a partecipare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.